Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e benvenuti ad un nuovo episodio di Neverwinter Nights. Siamo di nuovo con la nostra Lionella Dana, avevamo finito di parlare con Lady Aribeth e stavamo adesso andando a fare la nostra missione. Quindi dobbiamo trovare una cura per l'epidemia. Io ho messo un paio di mod che mi cambiano un pochino l'estetica delle magie, ho messo la possibilità di equipaggiare il mio seguace e mi sembra basta così. Allora, evochiamo il nostro famiglio, quindi Miriel la tiriamo giù ed evochiamo anche il nostro... Questo non erro, dovrebbe essere il tasso? Cinghiale? Cinghiale crudele. Allora, il tipo di armamento abbiamo pugnale e torcia che in tutta onestà andrei anche a cambiare, quindi liberiamo lo slot e mettiamo solo il pugnale per ora. Quadrelli ne abbiamo, la bacchetta del sonno... Vabbè, teniamola qua per ora. Non credo che la utilizzerò molto, la bacchetta del sonno. Ah, dobbiamo vendere tutta sta roba. Signorina Lady Aribeth, venga qua. Impariamo, impariamo, impariamo. Vieni, signorina, perché qua ti dobbiamo dare... Sfavorevole addirittura. Ammazzata, allora no, io non vendo a te, scusa, eh. Se permette andiamo a vendere qualcun altro. E mi devo anche trovare un followers, quindi un nuovo seguace. Allora, l'idea potrebbe essere quella di prendermi un guerriero. Perché? Diciamo che a livello di... Di incantatore, ci sono io, sono un mago. Abbiamo comunque due... Altri due unità che ci aiutano... Mettiamo la mappa. Che ci aiutano a combattere in corpo a corpo, quindi... Magari un seguace un pochino più efficiente. Allora, parliamo con Durga. Vediamo cosa vendi. Oh, tu sei favorevole apposto. Ti abbeccate tutti questi libri, così ti fai pure una cultura. L'armatura magica la vendiamo. Evoca creatura 1 pure. Sonno pure. Randello pure. Anello di rame pure. Ma io ti prenderei pure la bacchetta del fuoco. E già che ci siamo, anche la bacchetta del sonno. Allora, che mi posso comprare? Mi posso comprare qualcosa? Secondo me non vale la pena di comprare assolutamente nulla. Forse un elmo. Forse un elmo perché l'elmo mi dà un po' di concentrazione. Che è quella che mi serve quando vengo attaccato in combattimento. Quindi, diciamo, se mi attaccano, io sto lanciando un incantesimo. Avere un elmo mi aiuta. Quindi compriamoci il piccolo elmo, dai. Un elmo piccolino. Vai. Quindi abbiamo il nostro elmo sulla crania. E andiamo così. Andiamoci a prendere un seguaccio. Allora, la scelta potrebbe essere un chierico. E affrontiamo subito la parte dei non morti. Perché adesso praticamente noi dobbiamo scegliere. Vedete che qua ci sono i quattro distretti. Abbiamo distretto di Lago Nero, distretto del Porto, distretto della Penisola e Nido del Mendicante. Adesso ci sarà praticamente un elemento della cura per l'epidemia a ognuno di questi quattro distretti. E dovremo scegliere su quale iniziare. Onestamente, intanto diamo fuoco alla pila di vittime dell'epidemia. Ecco, saccheggiamola che c'è un incantesimo. Mi sembra che si poteva dar fuoco alla pila delle vittime. Che fa questa? Ma... Vabbè. Vediamo un po'. Niente, non me lo fai fare. Oddio. Quindi dobbiamo scegliere da dove iniziare. E se inizio dai non morti con un chierico... Insomma, potrei essere un pochino avvantaggiato. Perché il chierico ha una magia che è... Ovviamente devo scacciare i non morti. Allora, a nostra disposizione abbiamo un barbaro. Che è Dalen Red Tiger. Abbiamo poi un guerriero, che è lui. Grax. Non è male. Ci abbiamo poi uno stregone. Boddick Glinkol. Poi ci abbiamo... Un monaco. Griming... Non lo so pronunciare. Ehm... Poi ci abbiamo lei. Che è il... Il chierico. E poi mi pare basta. Se non vado errato... Mi sembra che sono finiti. Quindi andiamo a parlare con lei. Mi vado a prendere subito... Un paladino. Vabbè. Senza che, insomma, leggiamo la sua storia. Ve la riassumo molto, molto rapidamente. Sto cercando un guanguaritore. Adesso ve lo riassumo. Non vi preoccupate. Allora, praticamente, lei è una seguace di... Di... Insomma, di una divinità che adesso mi sfugge il nome. E, insomma, sta facendo l'avventuriera. È venuta qui a Neverwinter per cercare... Diciamo, in qualche modo, per cercare fortuna. Ecco, vediamo in questa maniera. Quindi, è venuta anche per aiutare con l'epidemia. Lei, comunque, è una guaritrice. Quindi spera, insomma, di rendersi utile. Che, invece, ha avuto delle oggettive difficoltà. Andiamo a parlare con... Ophelia. Che ci va... Ophalia. Ophala. Ophala. Non lo so. Allora, praticamente, adesso... Poi vi faccio sempre riassunto. Praticamente, lei è una... Gestisce un bordello, perché questo, sostanzialmente, è un bordello. Quindi, Ophalia... Ophala. 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 Gestisce questo bordello e ci ha chiesto, praticamente, di recuperarli dei pezzi d'arte, perché lei è una collezionista. Quindi, ovviamente, con tutto questo trambusto dell'epidemia ha difficoltà a collezionare degli oggetti. Ma ha detto, guarda, che ci sono delle cose che a me interessano molto, che sono sparse all'interno della capitale. Quindi, ce l'hanno dei collezionisti d'arte. Mi piacerebbe, insomma, riuscire a ottenere di nuovo questi pezzi che mi sono stati tolte. Quindi, noi, praticamente, abbiamo il compito di trovare e portargli, nuovamente, questi pezzi di antiquariato. Ora, ora, qui siamo nel nido del mendicante. Quindi, mi pare che siamo nel nido del mendicante. Sì? Intanto raccogliamo un po' di... Sì, siamo nel nido del mendicante. Sento i suoni degli zombie sotto. Raccogliamo un po' di soldini. Allora, il party per affrontare il nido del mendicante, secondo me, è buono. Abbiamo comunque un mago con un bel po' di incantesimi. Ci sono tanti zombie, quindi sarà complesso, diciamo, affrontarli in massa. Ma abbiamo comunque un'incantatrice dalla nostra. Quindi, vedete, li tirano giù con un colpo e guadagniamo un sacco di punti esperienza. Quindi faremo un level up molto rapido. Qui c'è un popolano. Vabbè, lo possiamo anche lasciare stare, ma vediamo qua dentro che c'è. Borsa da guaritore più uno, questa poi la vendiamo. Oh, un altro zombie. Non fare la magia, opposto. Non c'hanno un bel corpo, diciamo... Ah no, con la quale questa va aiutata. Vieni, vieni, aiutiamola. Diciamo, li tiriamo giù abbastanza rapidamente. Tu devi attaccare il più vicino, però, eh. Ma dove cavolo sta il mio famiglio? No, devo parlare col famiglio. Non è... Non è in grado, diciamo, di capire che deve fare questa famiglia. Dopo ci parliamo. Grazie per avermi salvata. Figurati. Tu la vieni. Io ho la mia... Il mio seguace è andato qua giù. Cioè, ci siamo divisi. Ci siamo divisi. Vieni con me. Non ci dividiamo. Allora, qua ci vuole una bella magia d'aria. Facciamo delle mani brucianti. Avviciniamoci un pochino. Mani brucianti qui. E dovremo riuscire a fare qualcosa. Eh, concentrazione successo. Ok. Oh, attacca il più vicino. Niente, devo parlare col famiglio. I'll be back. Ho messo una mod che, diciamo, mi aiuta a gestire il famiglio. Ma, a quanto pare, qua lo devo risettare. Perché su un'altra partita che mi son fatto... Attacca il più vicino un po'. Fai qualcosa, cioè. Ok, è a posto. Ci siamo? Allora. Ho bisogno che cambi ciò che stavi facendo. Stai più vicino a me. Vorrei che tu... Inganci il combattimento se loro sono vicini. Altrimenti ritorna da me. Molto bene. Oh, dove vai? Fermo, fermo, fermo. No. Seguimi. Allora, fermo. Cambiamo il modo in cui giochi. In cui combatti. Voglio che ti comporti in modo differente quando siamo in pericolo. Trassa il tuo istinto? No. Però va... Sii coraggioso. Io voglio che tu combatti al mio fianco tutte le volte. Almeno che non sei estremamente ferito. Va bene. Ok. Questo mi sembra... Tiè. Magnate pure qualcosa. E siamo a posto. Io non ho comprato le pozioni però in questo... In questo diciamo. Noi forse io non li voglio aprire perché tanto so da scassinare. La roba che ci si trova dentro fa sempre... Sempre schifo. Quindi... Difficile che qua troviamo cose utili. Allora, il problema è che nelle pozze c'erano nove. Abbiamo delle gemme. La... La particolarità, diciamo... Ok. Ok, cazzo. Ma... Ma che ce l'ha io? Something's on the side of the door. Eh. Entriamo. Andiamo a vedere che c'è. Zombie. Ok. Allora, cioè... Se... 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 Va bene. Una freccia non mi interessa. La polvere di fata la prendiamo. Insomma, poi la... La buttiamo. Tanto non ci serve a nulla. Ricetta del panne lievitato. Questa pergamone descrive dettagliatamente l'ingrediente e le istruzioni per cucinare il panne lievitato. Una particolare prelibatezza di Neverwinter. Vabbè. La rimettiamo di lui. Senti, facciamo un riposino così lei recupera le sue... Le sue magie. Che comunque anche il... Un chierico ha... Noi mi pare sia un chierico. Sapete che non mi ricordo? Mi pare sia un chierico. Infatti è un chierico. E... Anche i chierici insomma hanno un uso giornaliero di incantesimi. Quindi è giusto che magari li ridiamo anche perché il... Lo... Tu li dovresti scacciare non morti se non vado errato. Mi ricordo qual è. Vediamo un po'. Non fa... Dai, non lo vuoi. Facene uno. Vediamo che ha fatto. Qual è? Scacciare non morti. Esatto. Mi pare che sono cinque o sei usi al giorno. Il problema è che noi siamo un po' scarsini con la balestra. Quindi... Attacca il più vicino. Vedete lei praticamente li stende tutti. Cioè non c'è... È abbastanza semplice combattere in questa zona con lei. Qui abbiamo un altro cittadino in difficoltà. Andiamo là ad aiutare. Qua sono tanti però. Ma io... Le mani brucianti lo farei. Ok. Ti prego non farmi del male. Ma no, non ti faccio del male io. Quanto ci manca per il level up? Ma non troppo. Diciamo che un'altra decina di zombie dovremmo essere a posto. No, forse un po' meno. Che vuoi? Ho bisogno di cure? Ho bisogno di qualcosa? Altri zombie? Grazie per avermi salvata. Qua sono tanti. Eh, qua servirebbe un po' la tua magia che sto davvero davvero tanti, eh. Ti inventi qualcosa, signorina? Ottimo. Brava. Ecco, questo dovevi fare. Pira di vittime dell'epidemia. La possiamo bruciare? Ok. Possiamo bruciarla. Ci prendiamo 25 punti esperienza. Ancora incagliata. C'era un altro? Chi c'è? Ah, altri zombie. Facciamo tre. Quanto li faccio con un raggio gelo, per curiosità? Oh, ha curato pure il cinghiale. Ah, non vedi. Questo che mi dà il vaffa, che mi dà i tiri di salvezza aumentati. Va bene, i tiri di salvezza sono molto utili, ma... Strano edificio e il cimitero grande. No, il cimitero aspetterei almeno il livello successivo per andarci. Possiamo entrare qua dentro. Il muro di forza blocca la via quando una voce d'aria inizia a parlare. Solo quelli che seguono il serpente possono entrare. Indossa il suo simbolo, segui il serpente. Infedere, solo quelli che portano il simbolo sono per i seguaci. Non passerai. No buono, no buono. Ecco, scusate, mi stanno arrivando dei messaggi a ripetizione. Vediamo un po'. Ok. Altre due monetine. Facciamoci un giro prima di entrare al cimitero. Andiamo a vedere anche che ci sta. Allora, questi forzieri... Il problema è che non... Cioè, poi li apro, vedete? Questo è come chiuso. Esatto. Emo che questi provano a spondare. Ci siamo 20 minuti a spondare a sto forziere. C'è un incantesimo bellissimo che... Però non sblocchiamo adesso. Che praticamente ci apre in automatico i forzieri. Però vedete, anche noi siamo un po'... Tiè. Eh, niente, dai. Segui, segui. Andiamo. Useless. Aspetta che il cinghiale si è presa col forziere. Devo dirgli di non sfondare le cose in automatico, praticamente. Quella dopo la sistemiamo. Ho trovato una pietruzza. Altri zombie. Sette. Ma se è botta. Attacca il più vicino. Sì, ogni volta che devo fare... Sai cosa di attaccare il più vicino? Oh, livello superiore. Ottimo. Allora, facciamo un level up. Possiamo sempre prendere un mago. Oppure fa un signore pallido. No, io direrei su ancora il mago. Almeno altri 4-5 livelli glieli voglio dare. E lo mettiamo in intelligenza a questo punto. Tanto penso che pure lui, infatti, l'avrebbe messo qua. Che è la caratteristica principale per noi maghi. 5 punti rimanenti. Ma io andrei su raccomandato. Tanto, insomma, è utile questa parte qui, assolutamente. Perché ho due punti su osservare e su persuadere? Per il discepolo del drago? Il signore pallido? Entriamo sempre su intelligenza. Allora, abbiamo volendo due incantesimi nuovi da poter imparare. Abbiamo incantesimi di secondo livello. Allora, potremmo pure... Eh, questo è scassinare. Quello che vi dicevo è molto utile. Che mi posso prendere? Allora, scassinare è carino. Il problema è che non ho grandi cose ad aria in questo momento. E scarica elettrica mi potrebbe aiutare. Si trasferisce soprattutto le creature presenti nell'area d'effetto. L'incantesimo fa 1 di 6 punti danno per 2 livelli dell'incantatore. Fino al massimo di 5 di 6. Le creature che falliscono il tiro devono anche superare un tiro di volontà. Alppure restano stordite. Possa di pietra oscurità. Nube di perplessità. I nemici presenti nell'area d'effetto sono assorditi e accecati per uno di 6 turni. Ma... Dissolvere combustione pure è molto bella. Però è più da corpo a corpo. Perché fa praticamente una sorta di fiammata in corpo a corpo. Potrebbe essere difficile. Potrei pensare di prendere scassinare. Ma prendiamola, dai. Che nelle zone chioste ci potrebbe dare una mano. Ok. Prendiamo sempre lo pseudodrago. Vai. E... Non posso riposare ancora. Qua mi fai entrare? Magazzino. Nel tanto ripochiamo il famiglio. Che ci è... Che ci è scappato. Oh. Ma c'è uno zombie. Altri zombie. Ok. Ma noi sono zombie normali. Non mi ricordo se funziona una freccia acida. Tutti loro. Mi è sparito anche il buff. Tutti i zombie. Vedete qua adesso guardate che faccio eh. Mettiamo lui qui. E qua ci mettiamo questa. Bene. Riposiamo. Mi fa riposare. Grazie. Ora vi faccio vedere che fa quell'incantesimo. Questo è molto carino. Ho fatti scassinare. Dovrei prendermi una moda che mi fa riposare immediatamente. Per risparmiare un po' di tempo. Perdonami. C'è un motivo particolare per il quale... Ah beh c'ha ragione scusate. C'ha ragione lui. C'ha ragione lui. Se non io li metto. E il primo livello che ci possiamo prendere ancora. Ragione di energia negativa ce l'abbiamo. Forse la lama di ghiaccio mi potrebbe dare una mano. Ma si vai. E dicevamo. Allora la lama di ghiaccio togliamo spruzzo d'acido. Mettiamo lama di ghiaccio. Tanto questi incantesimi poi non li... Cioè in realtà già non li facciamo più. Ok. E questo lo togliamo. Guardate un po'. Pup. Vedete? Clic 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 clic. Quindi ci ha aperto praticamente tutti i forzieri in zona. E me li posso aprire in tranquillità. È molto utile come magia. Diciamo che sullo stregone è meglio perché la puoi giocare più e più volte. Perché lo stregone è come il mago ma... Impara l'incantesimo in modo differente. E li può lanciare anche più di una volta al giorno. Quindi magari un incantesimo lo possiamo giocare 5-6 volte. Insomma dipende da... Dal tipo di incantesimo e dal livello. Però è molto molto efficace. Quindi diciamo con lo stregone solitamente lo prendo sempre come incantesimo. E... Andiamo subito al cimitero o continuiamo di qua? Ah. Ma io vorrei anche continuare. Una balestra leggera. E pure questa poi la vendiamo perché... Che ci faccio con una balestra leggera. Evochiamo di nuovo ragazzo qui. Vieni. Quindi adesso abbiamo due incantesimi ad aria. Abbiamo il fulmine, la scarica elettrica, diciamo, e le mani brucianti. Proviamo subito questo fulmine va? Beh, non mi pare sia stato proprio... Efficace. Non mi sembra sia stato molto efficace. Eh, tu sei più efficace. Io, insomma, ho fatto un po' tipo... Quack! Vabbè, dai. Ops. I nearly fell. Va bene. Dai, dai, questo lo tiriamo giù. Ok. No, 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 no. Eh, dai. Non la puoi sprecare, però, per un... Misero zombie quasi morto. Ma che delusione sta scarica elettrica, sinceramente, ragazzi. Non me l'aspettavo. Mi aspettavo un qualcosa di più efficace. A questi li dovremmo prendere tutti e quattro. Non tutti e tre. E a questo gli tiriamo un raggio gelo. Ce la faremo? Attacco di opportunità? No, via via. Attacco di opportunità? No. Cerchiamo di raggiungere zombie deboli. Niente. Va bene. Fa tutto lei. Ehm... Facciamo una frecciacità qua giù. Ok. A lui va benissimo un colpo di... Intanto dobbiamo aprire i forziari noi, mentre loro distruggono tutti questi poveri zombie. Qui abbiamo un altro forziere. Vediamo qua dentro che c'è. Mmm... Io direi di salvare. Ci abbiamo manche di magie. Chiudiamo la porta, torniamo indietro e recuperiamo le magie. Eh, perché mi servono... Scusate, ho spedato. Mi servono queste tre magie. Comunque sono le magie più forti che ho. Quindi facciamo recuperare anche a lei un po' di incantesimi. E... E ci facciamo... Insomma, andiamo con il ragazzo della spada. Ripochiamo il ragazzo. Fammi parlare con lei, perché mi pare che adesso li posso potenziare pure l'epipaggiamento. Ehm... No. C'è una balestra e un po' di pozze. Va bene. Andiamo. Allora, che ci possiamo inventare? Sicuramente ci potenziamo. Quindi ci mettiamo lo scudo. Ok. E... Direi di entrare. Ok. 12, ovviamente ferito. Dov'au! Attacco di opportunità, te credo. Beh, un po' di danni li facciamo. Tiriamo lì sta scarica elettrica. Stiamo pure più vicino. Ok. E... Che ti posso tirare? Ti posso tirare una lama di ghiaccio? 9. Ferito. Raggio di energia negativa? Non lo so. Possiamo provarla a frastornare, ma... Un umanoide con 5 età di vita o meno rimane frastornato per due round. Mmm... Mani brucianti. Mani brucianti. Lei è gravemente ferita. Curati. Ok, si è bevuta una pozza. Facciamogli anche un raggio di energia negativa. E che non gli facciamo assolutamente nulla. No, l'ho curato. Porca miseria, l'ho curato. Ah, però adesso gli è finita la pelle coriacea, mi pare. Cioè, aveva un potenziamento, quindi... E li possiamo solo sparare con la balestra. Finita magia. Ehm... Sicuramente in corpo a corpo non ci andiamo. Brava, bevi, bevi. Poi rileviamo uno. Facciamogli un raggio gelo. Forse siamo un po' più efficaci. Quattro. Beh, meglio quattro di uno. Morto. Ok. Ci siamo riusciti. Apriamoci anche tutte le serrature. A posto. 220 punti di esperienza. Non male. Pozione di cura ferite leggeri. E un altro amuleto. Totalmente inutile. Ammazza, manco un droppino mi hai lasciato. Ti sei proprio spiegato, eh. Cioè, potevi almeno... Almeno darmi un droppino piccolino. Mica... Mica ti ho chiesto chissà che. Ehm... Facciamoci un riposino. Nemici nelle vicinanze. Perfetto. Non puoi sconfiggermi. Culan mi ha reso immortale. La sconfiggeremo sicuramente. Fammi prima dormire, però che ho finito le magie. Ok. Allora, allora, allora. Qua abbiamo una pozione. Questa va messa di qua. Questo pure. Rissemiamo un attimo l'inventario. Ehm... Il martello leggero lo vendiamo. Perché tanto io non lo posso utilizzare. La torcia la lasciamo qua. E allora io queste pozze le mettere tutte di qua. Perché tanto... Attualmente le pozze le utilizzo, ma... Fino a un certo punto. Ehm... Questa la possiamo mettere... La possiamo mettere qua. Questa roba la lasciamo così. Ok. Bene. Andiamo avanti. Quindi... Rievochiamo... Il cinghialotto. Vai. Oh. Mazza che botta. Mmm... Dobbiamoci una pozza, va. Eh, difficile questa, eh. Ehm... Facciamoci uno scudo. Attacca il più vicino. Non gli facciamo nulla. Dieci. Ok. Ehm... Proviamo con questo. Mmm... Preciacita. Beh, un pochino gli facciamo, ma non quanto vorrei. Non quanto vorrei. Questa è sempre per terra. Se mi muore lei è dura, eh. Mi muore lei e devo scappare. Non riesco... Non riesco a tornare. Ok, bevi. Ok, abbiamo fatto undici danni alla porta. Beh, meno male. E dobbiamo ridare un po' di pozioni a lei, eh. Perché... Non gli stiamo facendo grandi danni. L'energia negativa non ha senso. Ehm... Continuiamo con i raggi gelo. Solo che il nostro cinghiale non è il massimo. Guarda, te ne gasto tipo, che ne so, quattro, cinque. Tanto, insomma, non è che posso fare grandi cose. Quanto ci manca per level up? 3000. Beh, comunque diciamo che 8 non è male, eh. Il problema è che non facciamo danni. Eh, lo so che ti ha reso immortale questa Gulan. Però tu comunque stai prendendo danno. Spostiamoci. Mettiamoci più vicino. Gravemente ferito. Dai, dai. Ok, quasi, quasi morto. Tiriamo via un altro po' di raggi gelo. L'ha ributtata per terra, ma... Dovremmo riuscire a... Oh, tacca! Che sta fa? Ma... No, regà, si è buggato il cinghialotto. Ha bisogno di te! Ha bisogno di te! Eh, si era... Oh, si è sbuggato, vai. Eh, non ce la facciamo... Non ce la faremo mai. Si è ribuggato questo cinghialotto. Ma questo cinghialotto non fa un cazzo, ragazzi. È veramente inutile. È veramente, veramente inutile. Zero! Proprio non rifacciamo nulla. Colpito, ci sono stati 10 e 27. Non rifacciamo danni. Lo so che ti hai reso immortale, ma puoi morire, perché ti ho sconfitto l'altro giorno. Quindi lo so che puoi andare giù. Lo so che puoi andare giù. Io me lo ricordo. Ti ho sconfitto. Ne sono sicuro al 200%. Ecco, perché un danno l'ha preso, quindi, cioè... Eh, ce ne torniamo a casa. Adesso a me si è buggato, ragazzi. Perché io questo qua l'ho sconfitto. Sono sicuro al 100%. Torniamo a casa. Torniamo a casa e li lanciamo altre magie, vai. Vai, torniamo qua. Riposiamo. Riprendi qui con me. Sì, tieni. Dormiamo. E mo' torniamo là giù. E ritiriamo un po' di magie. Ma io mi ricordo perfettamente di averlo sconfitto, quindi, cioè, non è... Magari le armi non sono efficaci, però con le magie ci riusciamo. Ci ritiriamo scudo. E evoca creatura. E... E poi la freccia acida... Vediamo, adesso gliela tiriamo a lui. Ok. Vai. Niente, non prende danno. Oh, io, ragazzi, vi giuro che l'ho sconfitto, quindi... Vi giuro che l'ho sconfitto. Cioè, non è... Non... Questa cosa me la... Me la ricordo... Infatti, vedete, prende un danno. Questo non fa niente. Gravemente ferito. 8. Vedete che qualche cosa succede? Attacco d'opportunità. Eh, io ho quasi altri due, tre. Vai. E poi mi rimane la magia quella proprio che dicevamo... Eh, questa è inutile. Vediamo un po'. Niente. Perché questa non è servita assolutamente a nulla. Scosta elettrica. E poi, che ho fatto? Finiti. Oh, ce l'hai fatta. Ho tirato le zampe finalmente. Di nuovo, perché poi già eri morto. Ehm... Che mi dai? Un troppino. Meno male, va? Oh, la mazza doppia. Beh. Che fai? Non la prendi la mazza doppia sul mago? Allora. Ehm... Andiamo a vedere che c'è in questa stanza. Ehm... Apriamoci tutto. Comunque. Non credo che ci sia ancora qualcosa da aprire, ma... Randello più uno. Questo già potrebbe essere più carino rispetto alla mazza. Ristorare inferiore. Non credo che non la possiamo imparare, vero? No, infatti questo non è un incantesimo arcano. E io, ragazzi, allora terminerei qui l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.